Ed è proprio mentre Butterstate rimuove dai canali di comunicazione alcuni dei suoi Sherpa e emissari di più vecchia data, come Sigma, rappresentante dell'Evasion GG, non so se vi ricorda qualcosa questo video, se mi ricordo di metterlo qui, che c'è un ballume di speranza. All'orizzonte si presenta Greyzone Warfare, trailer di lancio pochi minuti fa, con data di rilascio della Early Access non tra un mese, non tra un anno, non tra dieci anni, domani. Nel caso voi non mi seguiate su Twitch, io ho avuto l'opportunità di provare questo titolo qualche giorno fa per una settimana, devo dirvi, generalmente approvato. Ora, se avete cliccato su questo video è perché vi interessa sapere come si confronta questo titolo con Tarkov e magari anche vi interessa sapere il mio parere, visto che ho potuto provarlo. Iniziamo subito col dire che non c'entra una mazza con Tarkov, può ricordarlo per quanto riguarda l'interfaccia e altri dettagli, ma sono due giochi diversi, non andrebbero nemmeno confrontati, ma mi rendo conto che il nostro termine di paragone è quello, quindi devo per forza confrontarli. Iniziamo con lo spiegarvi come funziona il gioco. Greyzone Warfare è un looter shooter survival open world, un gioco dove si combatte sia contro l'entità di intelligenza artificiale che contro i player, quindi è un PVEVP, come Tarkov, lo so, dove però invece che scegliere una mappa in cui entrare a giocare e poi estrarle portando la roba nel proprio menu, non si esce mai e non si entra mai dalla mappa. Dal momento in cui si clicca play si è dentro un'enorme distesa di 40 km quadrati eccetera, con i punti di interesse sparsi nell'estensione della mappa e non si estrae mai. Nella mappa sono sparsi i quartieri generali di tre fazioni. Il tuo giocatore fa parte di una di queste tre fazioni e la scelta è estremamente importante perché non cambia nulla in termini di gameplay, in termini di vantaggi o svantaggi, tant'è vero che le mappe addirittura sono simmetriche per cui i punti di interesse fuori dal quartier generale sono gli stessi per tutte le fazioni, ma cambia tantissimo perché si può giocare in cooperativa solo con membri della stessa fazione e la fazione non si può cambiare una volta scelta fino al wipe. Quindi mi raccomando, se decidete di provare questo gioco, mettetevi d'accordo con gli amici e scegliete la fazione identica. Io giocherò LRI. Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, quando si entra in gioco si è all'interno del proprio quartier generale dove si può interagire con il proprio inventario, con i trader, accettare le missioni, pianificare i propri movimenti, conoscere e parlare con altri giocatori, di cui tra l'altro vi parlo dopo ma è una meccanica molto molto positiva, è uno dei lati vincenti di questo titolo. Dal campo base si può chiamare un elicotterino che vi porterà nel punto di missione, nella landing zone che avete sbloccato in mappa e avete selezionato. Quindi potete andare esattamente dove volete con l'elicotterino. L'elicotterino vi porta sul posto, vi molla lì, da quel momento voi siete liberi completamente. Potete andare dove volete, potete viaggiare per tutta la mappa a piedi, potete fare quello che volete. Quando ritenete di aver fatto abbastanza, è sufficiente richiamare l'elicottero che vi darà appuntamento alla landing zone più vicina alla vostra posizione, vi riporta al campo base, che è zona franca, e potrete portare a casa il vostro loot, consegnare le quest, eccetera, eccetera. In tutto questo procedimento non c'è mai mezza schermata di caricamento, matching, niente. Dal momento in cui si preme play, fino a quando non si chiude il gioco, si è sempre in mappa. Del gioco vi ho parlato, ora pro e contro. Primo pro in assoluto, il prezzo e il tempismo. Con tutto il tumulto che sta succedendo in questo momento nel mondo di Tarkov, questa alternativa era assolutamente necessaria. Prezzo di lancio per la Early Access, 35€ su Steam, con la possibilità di fare il reso se il gioco non vi piace. Ovviamente anche loro offrono le loro versioni standard, premium, più premium e super supporter, ma imparano dall'errore di BSG e loro non promettono i DLC futuri. Se vuoi comprare la versione più cara, semplicemente avrai lo stash più grande, un secure container, come quello di Tarkov, più grande e qualche vestito premium. E' un bel grazie. Prezzo di lancio 35€, il gioco si può fare il reso pro. Secondo lato estremamente positivo del gioco, come vi dicevo, è l'immediatezza. Mi sono pure scritti sul taccuino. L'immediatezza di questo gioco, perché è super super rapido entrare e giocare. Beh, si aspetta pochissimo, non c'è l'attesa, non c'è matching, non c'è niente. Clicchi, sei dentro. Sei anche nelle fasi di gestione del tuo stash, sei comunque in un ambiente vivo, con gli altri membri della tua fazione che ti girano intorno, gente che parla in VoIP, riesci a comunicare in maniera estremamente facile e questo è anche una cosa che ho potuto provare in prima persona. mi è capitato di fare una partita da solo, entrare nel quartiere generale, scambiare due chiacchiere con letteralmente il primo che mi è passato davanti, boh, amici per la vita, sali sull'elicottero, vai e giochiamo. Questo è fighissimo. Non devi appoggiarti a piattaforme esterne, non devi cercare community su Discord, nulla. Entri in gioco, parli con i membri della tua fazione, trovi un buco libero in un gruppo da quattro e vai a giocare. Altro super lato positivo, le prestazioni. Ragazzi, so di avere un bel computer, ho una 4080 e un 13900K, ho fatto 130 FPS fissi a cannone con tutto ultra in 2K, senza mai un problemino. L'unica prestazione un pochino bassa nell'istante in cui entri in mappa per la prima volta, ma con prima volta intendo letteralmente la prima volta. Cioè, la prima volta che tu esplori una zona è come se tu caricassi in una specie di cache nel tuo computer l'area. Da quel momento in poi non lagga mai. 130 FPS a cannone, in una mappa estesissima, tutta fatta di alberi, piante, acqua. Eccezionale. Ultimo aspetto che ho apprezzato molto, la balistica. Non in termini di volo del proiettile, perché per quello mi sembra che non esistesse. I mirini sono ottimi, è tutto bello, però il proiettile vola dritto a scanner proprio. Però in termini di balistica terminale, quindi l'effetto del proiettile a destinazione, non ho mai provato nulla di sì. Forse solo arma, con la differenza che questo non lagga. Tutto bello, ora parliamo dei contro. Anche qua ne ho quattro. Primo lato negativo, il rischio di diventare monotono a breve. Perché al momento non c'è molto da fare, se non accettare le quest e portarle a termine. E ho trovato estremamente facile accumulare denaro. PvP io, nella mia esperienza, ne ho incontrato poco. Questo dovuto al fatto che ho provato il gioco in un momento in cui pochissimi al mondo lo avevano. Quindi mi aspetto sicuramente server più popolati durante le fasi di early access che inizieranno da domani. Però in generale il rischio che diventi monotono è questo vai e torni con gli elicotterini in giro. Ma del resto tutti i giochi sono monotoni ed è una meccanica semplice ripetuta all'infinito. Quindi ve lo dovevo dire, ma non è proprio necessariamente un super lato negativo. Lo è invece, se siete appassionati di Tarkov, il fatto che non sia comparabile a Tarkov in termini di immersione. Proprio per la sua immediatezza, proprio per la sua accessibilità, sapete che è un compromesso. Più è facile entrare in partita e giocare e ottenere la soddisfazione, meno soddisfazione si ottiene. Quindi non si ha la tensione di Tarkov di perdere la roba e non riaverla mai più. Anche perché quando il vostro personaggio muore, se prendete l'elicotterino e tornate sul body, se c'è ancora la roba ve la potete riprendere. Non è come Tarkov che una volta morti quel ride è finito. Si può tornare a prendere la roba. Questo vuol dire che il PvP che ho fatto io è stato un po' una cacata perché era tipo la Rust che tornavano tutti in mutande a provare a prendere la roba e tu per un quarto d'ora, dopo aver ammazzato due chaddoni, spari ai nudini per un quarto d'ora. Ma tutte cose che miglioreranno col futuro ne sono certo. Il succo però è che non è Tarkov in termini di immersione. Se vi aspettate di rimanere con la tachicardia davanti al computer, no. Il terzo punto negativo è che essendo un gioco lanciato adesso è sicuramente acerbo. Ci sono tanti aspetti che ho potuto provare direttamente nel mio periodo di prova, tipo il rischio di essere camperati e cose del genere che devono essere sicuramente bilanciate e migliorate. La quantità di loot che si trova in giro, quanto è facile fare soldi. Insomma, tutto il processo di ottimizzazione del titolo ce lo dobbiamo ossorbire tutto perché di fatto esce domani. Quarto lato negativo, facilmente risolvibile. Il fatto che la mappa al momento sia vuotissima. Sono 40 chilometri quadrati di risaie con pochissimi punti di interesse che vanno dal semplice quasi solo PVE al PVP vero tra una fazione e l'altra. Ma di fatto sono chilometri che separano queste aree e in mezzo c'è il nulla. Quindi, da una parte mi viene da dire, potevi fare una mappa la metà, un quarto, e non dire che avevi la mappa di 40 chilometri quadrati giusto per farti tronfio. Però, lo capisco, risolvibile semplicemente popolandola di più o comunque, come hanno detto i developer, cambiando le posizioni dei punti di interesse in maniera dinamica durante il wipe in base a come si evolvono le dinamiche di potere tra le fazioni in modo da rendere il gioco sempre diverso. Da vedere, interessante, però al momento la mappa è una risaia. Quindi, in sintesi, questo gioco lo consiglio? Yes! Per 35€ con la possibilità di fare il reso, senza dubbio. Ci ho giocato una settimana, quando mi è scaduta la chiave di prova mi è dispiaciuto e avrei voluto continuare a giocarlo per vedere cosa sbloccavo, eccetera, eccetera. Com'era il gameplay più avanzato e tutte quelle cose lì. Durerà anni questo titolo, come è stato per Tarkov? No, magari dopo due settimane ti rompi. Magari no, non possiamo saperlo. Ma è una novità, è ben accetta, esce già ottimizzato. Io, personalmente, lo giocherò. In chiusura, devo ovviamente ringraziare il buon Fraus di Parliamo di Videogiochi che è stato lui a fornirmi la chiave per giocarlo. Ho apprezzato molto, lo giocheremo insieme e appunto senza di lui non avrei potuto neanche pensare di fare questo video. E approfitto per dirvi che probabilmente a breve uscirà anche il suo video di opinioni e vi invito ad andarlo a vedere. Magari diciamo le stesse cose, magari abbiamo visioni differenti. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!